Dopo circa 20 anni a Chieti è tornata la festa provinciale dell'Unità. Diversi temi trattati di stretta attualità nel pomeriggio e nella serata di ieri in Piazza Malta che ha accolto esponenti politici e cittadini, dalla Costituzione all'autonomia differenziata, passando per i media e le emergenze del territorio, sono solo alcuni dei temi affrontati con l'intento di un vero e proprio summit del PD abruzzese. Leo Marongiu, segretario provinciale PD Chieti. Torna la festa dell'Unità a Chieti, è la prima festa provinciale del Partito Democratico perché noi così vogliamo rispondere a quello che ci chiedono i cittadini, tornare tra la gente e tornare in piazza. Ecco perché abbiamo costruito questo momento per ritrovarci, per guardarci negli occhi e per chiudere un'estate militante che ci ha visti al centro di iniziative molto importanti sulla sanità, sull'autonomia differenziata, sul salario minimo. Questa di oggi non è solo la festa del Partito Democratico, è la festa del centro-sinistra, di un popolo che oggi torna in piazza, torna a ritrovarsi. È una festa di comunità. Beh, questa si chiama festa dell'unità, appunto per questo, perché la sinistra quando vince e quando riesce a rispondere alle esigenze dei cittadini, quando è unita. Ecco perché da qui oggi parliamo di autonomia differenziata e dopo parleremo di Abruzzo, parleremo di Abruzzo, dei temi che hanno visto toccare la pelle dei cittadini in quest'estate. L'acqua, il futuro dell'automotive, l'agricoltura, le infrastrutture, la sanità, il dramma della sanità nella nostra regione con un buco, con un deficit enorme, quindi da una parte un deficit e dall'altra parte i servizi che non migliorano. Siamo a Chieti in vista delle prossime comunali, il sindaco ha detto che è disposto a ricandidarsi, ma c'è qualcuno che chiede le primarie, cosa accadrà? Per noi il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è il candidato naturale, anche perché è il protagonista assoluto dell'opera di risanamento nel comune di Chieti. Ora, quest'opera di risanamento amministrativo dobbiamo accompagnare una fase di ricomprensione politica. Ecco perché abbiamo voluto questa festa a Chieti, questa festa dell'unità dove la facciamo, dove c'è più bisogno di unità. Grazie.